No, no, no... Estraio! Ho ripreso... E' una meno farne di uno, eh. Ehi! Ehi, con te... Ehi, il nostro sosse è gioco! Ehi, vabbè, l'altro... Ehi, vabbè, l'altro... Aspetta, vant'ora avanti un po'... Ehi! Ehi, un problema grosso! Ehi, caro Elmiretch, ha un problema grosso! Ehi, come? E' grossi, caro! Ehi, c'è il problema grosso! E' la mogra! Ma come fare che riprisco? eeeh adesso la mani di che buona ci vediamo di Carlo Ginecchio che è gravemente ammalata è grave è gravemente ammalata allora ascoltatemi bene, vieni a me fa la ricetta la cilecca, per te cilecca io sono buono la cilecca, la ricetta voi chiedete a dire al farmacista la magna ciccia la farmacista io vedo al cuoio eeeh ma il neri deve averse maggiore eeeh nooo eeeh 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 allora da questo il pugietto c'è qui che sa che la moglie che sta male ma che non faccia sta moglie eeeh eeeh gravemente ammalata eeeh eeeh vi potremmo avere? eeeh allora qui c'è la ricetta mirate una seconda se ci capite ethe la dire al farmacista e lui dalla medicina se legge? ah io no, te ne legge? e Brozo lo conosce ehi, mica mi ha fatto il dottore ehi! mi roba! ehi! però la mia parete davvero a Ronnelli chi? Ronnelli il mancanello? che cosa dice? da meno come se muore da questo? e io ho montato la bicicletta tra mia moglie no, niente, è tutta un'altra faccia è diverso da moglie allora mi può venire io? stiamoci dalla stiena e non portate due e non portate due non portate due non portate due non portate due non è una macchina il rondello non portate due provate un po' aspettate c'è il dottore forse state pronto? ma non ho posito ma non ho posito ma non esiste tantino ha sbaglio verso ma no perché lo tengo? vengo io ho fatto il pezzo ma spuntico la troviamo se ne trovo ehi hai fatto più la farmacia hai usato più la farmacia vai a mettere l'olio se lo trovi da stabile esperto questa è il compito ma no ok ok må perché la famaccia la fama la fama la fama è in mano c'è la fama Oh E' un po' di manata! C'è un biocchi che ha detto un pesote sopra! E come fanno? E' un tipo di ucchio per la parte della ricetta! Corso! che è fatto! uff! aiuto aiuto! dai la mano aiuto aiuto! ehi vieni a vedere come ci spiego spattro in occhio! io ho portato il medicino e noi! addio mia quella affari! io la pazzo! tu qua! ho anche lo strappato! e che è? voi come ti dai le pecole? io le metto dalle pepere si! io le metto dalle pepere! io le metto dalle pepere! e che la sta a fare? io? guarda giusto! ma è una mano! si! addio mio! ma ti avrà una miglia questo? è una gallina! questa mattina ci lo vuoi dire? e le vuoi? ah una farmacista! ricordate che l'unica medicina che funziona è quella del dottor ci ha la pica! che si la muoviene che è morta! e che guarì! ehi! 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 gli amici! ehi! 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 che brucia! Siamo presi dal risolto e c'è non viene lavorato. Siamo presi dal riso. Siamo presi dal riso. Siamo presi dal riso. Siamo presi dal riso. Siamo presi dal riso.